Al premio Vallesina a Cupra Montana, ospite Francesco Baccini, genovese, impara a suonare il pianoforte da bambino e poi a vent'anni la musica leggere e rock. Nel 90 è il successo con i ladri di biciclette, dove vince il Festival di Sanremo. Il Festival Bar, come ricorda quel momento? E' stato quando un outsider vince qualcosa di istituzionale, perché la canzone di bicicletta era nata come uno scherzo. Io stavo facendo il mio primo disco a Modena, li avevo conosciuti lì, ci è venuta questa idea di fare una roba insieme ed è uno scherzo. Sono nato in un pomeriggio e è diventata quasi un evergreen. Un tormentone che però è rimasto, che si sente ancora a distanza. A me sono passati 18 anni, perché era l'estate del 90, quindi è un tormentone che è rimasto quasi un classico. Poi dicevamo ladri di biciclette, siamo a Cupra Montana, Luigi Bartolini ha scritto il libro Ladri di biciclette, quindi si chiude il cerchio. Sì, sì, infatti ci sono delle cose nella vita che stranamente poi tornano sempre. E niente, quindi quello è stato un po' l'inizio. Poi in realtà il pezzo sotto questo sole era il mio secondo album, perché il primo album si chiamava Cartoons, col quale invece avevo vinto il premio Tenko, che era il premio della critica, quello serio. Infatti credo di essere l'unico che nel giro di un anno ho vinto il Tenko, il Festival Bar, così all'inizio. Quindi anche un po' spiazzando, perché dicevamo questo è un cantautore serio, poi però fa sotto questo sole. E io sono uno un po' così, poliedrico, mi diverto a fare tante cose. Mi ha colpito un'altra cosa, alcuni anni dopo esce con l'album Nomi e Cognomi, dove scegli determinati personaggi pubblici da ironizzare. Come è stata la scelta di questi personaggi? Alcuni sì, altri no? Eh beh, ho scelto dei classici, perché se vai a vedere i nomi ancora oggi sono da Maradona a Andreotti, è uscito il film l'altro giorno, anzi l'altro giorno tra l'altro mi hanno detto che il regista si è dimenticato dopo di dire, ma no perché non ho sentito la canzone su Andreotti. E quindi, no, ho scelto dei nomi, come dire, dei classici dell'Italia, dei nomi che comunque ricordano non c'è Lentano, Andreotti, Maradona e mi sono divertito, devo dire che quel disco andò benissimo perché ha vinto il doppio disco di Platino, però mi creò anche qualche problema, perché quando il singolo si chiama Giulio Andreotti, dicevano, ma Andreotti, ma non puoi cantare un'altra? No, il singolo è quello. A proposito di cinema, abbiamo saputo che tra poco uscirà un film per il cinema intitolato Zoe, dove lei fa il protagonista. Qualche anno prima però aveva fatto un album in cui appunto prendeva un pochino in giro i volti della tv. Della tv, no, beh, io credo che in Italia siamo specializzati a non stupirci se personaggi assolutamente normali che la tv ci ha sfornato in questi ultimi 15 anni fanno un disco, un film, un libro, mentre si stupiscono se qualcuno che magari ha del talento fa un disco, un film, un libro, quindi dipende chi le fa le cose. Io tra l'altro, da quando ho cominciato veramente, fin dal primo disco, ho avuto richieste da registi di fare film. Io però all'inizio avevo paura, perché specialmente in Italia, quando fai una cosa, dicono, ma fai questo, ma fai il cantante, fai l'attore, cioè in America è normale che Frank Sinatra ha fatto 100 film e nessuno mi ha messo in dubbio che facesse il cantante piuttosto che Elvis Presley, piuttosto che David Bowie, no? Allora ho sempre detto di no, anche registi come Bellocchio piuttosto che Giacomo Campiotti. Oggi, dopo 12 album, la gente sa che faccio il canto autore, posso anche buttarmi in questa esperienza che è stata bellissima e conto di ripare al più per questo. Il film è bellissimo, è una favola sulla guerra di questo regista giovane che si chiama Giuseppe Varlotta e sarà presentato al Gifoni Film Festival il 23 di luglio e sarà una sorpresa perché è veramente un film che, diciamo, non sembra italiano, nel senso del cinema italiano che siamo abituati a vedere. Sarà una sorpresa, anche vedermi sotto quell'aspetto perché chiaramente sono molto differente da come poi la gente è abituata a vedermi su un palco a cantare. Un'ultima domanda, poi la lasciamo alle prove. Siamo a Cubramontana, noi siamo di Vallesina TV. Lei era già stato a Cubramontana per la festa dell'Uva all'incirca 12 anni fa, all'incirca. Però francamente oggi, vedendo Cubramontana, mi sembra di vedere la prima volta e ho scoperto un paese bellissimo. Altri paesi delle Marche che aveva già visitato? Ma, sai, dopo 18 anni che fai questo lavoro, è un continuo girare l'Italia, dalla città ai paesini, quindi le Marche le conosco abbastanza bene, da Ancona alle città più grosse fino ai paesini più piccoli. Comunque è tornato a Cubramontana, per noi è importante, significa che in qualche modo ha lasciato un segno. Ah beh, questo lo devono dire gli altri, non io. Grazie, grazie mille.